eccoci di nuovo sul canale youtube di rubrica rossonera per tutti i nuovi follower i nostri nuovi amici vi chiediamo di iscrivervi al canale youtube di rubrica rossonera per non perdervi nessuna news in descrizione curiosità riflessione sul mondo rossonero aiutateci a arrivare presto a 9.000 iscritti perché vogliamo crescere sempre di più perché vogliamo diventare un luogo un posto dove il tifoso il cuore rossonero è al centro del nostro progetto al centro del nostro dibattito quindi mi interessa anche vi interessano molto anche i vostri commenti commentati numerosi e nei prossimi video leggeremo i commenti che stuzzicano anche i temi della riflessione quindi fate anche delle riflessioni sul nostro canale parliamo di antonio conte antonio conte perché ieri sera te lombardia luca momblano giornalista appassionato di juve giornalista vicino alle dinamiche giuventine giornalista vicino alle dinamiche tolonesi ha parlato di un accordo tra il milan e antonio conte per le prossime stagioni un accordo che è stato portato avanti stato caldeggiato da zlatan ibrahimovic accordo raggiunto il milan che quindi anticipato ha soffiato antonio conte al napoli specialmente candidata numero uno in italia e mi dicono anche a diverse candidate all'estero che erano molto interessate al tecnico leccese quindi milan che avrebbe si sarebbe assicurata antonio conte notizia che poi è stata anche rilanciata da altri colleghi colleghi autorevoli notizia che non abbiamo non abbiamo riportato ieri sera neanche questa mattina perché è stata una giornata di di indagini è stata una giornata un po di approfondimenti abbiamo cercato di verificare la notizia abbiamo cercato di attraverso le nostre fonti cercare di capire cosa c'è di vero possiamo confermare questa voce possiamo confermare questa voce nel senso che l'accordo nero su bianco non è ancora stato messo tra il milan e antonio conte però sono state continui che è una chiacchierata sempre più intensa sempre più vivace e c'è una possiamo dire una stima reciproca e una voglia di sposarsi reciproca dal milan e antonio conte antonio conte che vuole tornare in serie a vuole tornare vede la sfida rossone una sfida affascinante perché vorrebbe trionfare con la juventus con l'inter e con il milan sappiamo tutti quanto poi sia un vincente sappiamo quanto ci tenga a primeggiare quindi questa cultura della vittoria sempre comunque che serve come il pane a un gruppo come il milan che è un gruppo giovane ma un gruppo che può sicuramente dare di più quindi questa mentalità vuole essere portata all'interno del dell'organico rosso nero mentalità che condivide con zlatan e brevici quindi si formerebbe un binomio davvero di altissima caratura a livello di mentalità però voglio aggiungere dei dettagli in più voglio aggiungere dagli in più che mi sono arrivati che sono arrivati in giornata in redazione ovvero che gery cardinale che viene spesso bistrattato che viene spesso in qualche modo criticato come presidente compiere anche dei gesti importanti che sono i seguenti cardinale non è soddisfatto della stagione rosso nera quindi in maniera indiretta già scaricato stefano pioli non lo fa perché antonio conte non vuole e lo ha ribadito anche questi giorni a zlatan e brevici non vuole subentrare la stagione in corso vuole prendere la squadra da zero resettare tutto e si riparte con antonio conte con un nuovo metodo di lavoro quindi non vuole subentrare più che altro non tanto per una questione tecnica ma per una questione fisica perché i suoi carichi di lavoro sono carichi di lavoro importanti perché il gioco di antonio conte è un gioco codificato che in questo momento sarebbe totalmente diverso rispetto a quello di pioli quindi vuole resettare tutto a giugno e ripartire con il ritiro quindi avere il tempo di conoscere di improvare di sperimentare con la rosa rosso nera quindi scartata questa ipotesi il mila non vuole bruciare a ignazio abate rimarrà con pioli fino al termine della stagione anche in vitto anche in caso di vittoria dell'europa league comunque stefano pioli non sarà più allenatore del milan mi voglio voglio augurare che il milan chiuda la stagione ad oggi disastrosa con una bella vittoria dell'europa league sarebbe anche un bel arrivederci un bel addio con stefano con stefano pioli che comunque ci ha fatto vincere il diciannovesimo scudetto della storia rosso nera quindi va sempre andrà sempre ricordato con stima e con affetto detto questo le notizie in più sono queste che cardinale quindi non è soddisfatto la stagione ha scaricato pioli ma non è soddisfatto anche dell'operato di furlani e non è soddisfatto delle uscite di scaroni quindi l'idea con il rifinanziamento e scusate il pagamento del finanziamento del prestito con eliot porterà il milan anche a dirottare a mandar via sia furlani che scarone quindi cardinale lascerà farà partire questi due uomini che sono due uomini di eliot perché ricordiamo giorgio furlani è cresciuto dentro eliot management e quindi verrà allontanato come scarone è stato scelto come presidente del milan da eliot quindi verranno tutti due allontanati e il milan nella persona di cardinale sta cercando due figure due figure autoritarie una figura importante un marotta una persona che abbia peso specifico all'interno della lega che abbia un peso specifico all'interno della uefa e dicono addirittura clamoroso che il cardinale sarebbe ripresentato a riportare a evan gazzidis però questa notizia non ha trovato conferma anche perché gazzidis ha avviato altri progetti professionali negli stati uniti quindi è una cosa veramente molto difficile più probabile un nome italiano però su questo ci sono novità importanti perché il nome di un eventuale presidente rossonero o di una figura di spicco probabilmente arriverà con l'ingresso del nuovo socio di minoranza che sappiamo potrebbe essere un socio arabo socio arabo che potrebbe quindi finanziare con l'entrata restituire la finanziare questa cifra importante che redbird deve a eliot per poi una progressiva uscita di cardinale con redbird una volta che lo stadio verrà costruito che verrà ratificato l'accordo tra tutte le parti in causa regione lombardia comune di san donato e il milan quindi lavoro in corso per il milan antonio conte che si avvicina cardinale che probabilmente manderà via furlani e scaroni si cerca questa nuova persona che verrà scelta col fondo arabo quindi il milan continua a lavorare prosegue spedito il progetto di cardinale queste le ultime news le ultime informazioni indiscrezioni che sono arrivate a rubrica rossonera che abbiamo voluto condividere con tutti voi fateci sapere amici cosa ne pensate di questo eventuale possiamo dire scenario e come sempre cliccate like iscrivetevi al canale youtube di rubrica rossonera rossonera rossonera